legeria film produzione all'onore di presentare prossimamente su questo schermo bellezze a capri il film più divertente di questi ultimi anni che vi farà trascorrere due ore di serena ilarità sono tornate le sirene nell'isola azzurra no sono le ragazze di bellezze a capri tra l'incanto dei giardini i maggiori nomi dello schermo della radio e della rivista sono riuniti in questo film per rendere omaggio alla più grande parata di bellezze nel suggestivo e incomparabile scenario di capri che sussurra con passione a chi sbarca resta qui guarda che stelle che bianca luna guarda che bruna che bionda ue bellezze a capri tra l'incanto dei giardini dove mille mandolini ti sospirano d'amor se tu sbarchi un giorno a capri il tuo cuore canterà nel vedere le caprese dalla pelle nero rosa chi può resistere al richiamo dell'amore e della felicità nell'isola del sogno a capri tra l'incanto dei giardini dove mille mandolini ti sospirano d'amor mormora il mare la dolcissima canzone che sussurra con passione a chi sbarca resta qui guarda che stelle che bianca luna guarda che bruna che bionda ue bellezze a capri tra l'incanto dei giardini i motivi che voi tutti canterete saranno lanciati in bellezze a capri il film che è un inno dedicato alla grazia alla natura all'amore non mancate all'appuntamento con bellezze a capri prossimamente su questo schermo non mancate all'incanto dei ricchi non mancate all'incanto dei ricchi che l'ultima Grazie a tutti.